Prima giornata delle finalette di Coppa Italia di calcio a 5 al Palafiera di Pesaro, in chiaro scuro per le due rappresentanti abruzzesi. Resta in corsa l'acqua e sapone che in semifinale se la vedrà domani sera alle 20.30 col Caffè Lollo Napoli. Eliminazione ai quarti per il Pescara e dunque niente derby per la squadra di Patriarca. Nonostante la sconfitta, il quintetto Biancazzurro può guardare all'ultima parte della stagione con maggiore convinzione, dopo l'apprezzazione comunque positiva e gagliarda fatta vedere contro Napoli. Intanto si è rivisto Fernando Wilhelm, tornato in campo dopo l'operazione al crociato della scorsa estate e sette mesi di attesa. Partita spettacolare nel primo tempo, con i Biancazzurri costretti sempre ad inseguire le reti di Andrè Ferreira e Peric con Borruto e Salas. Ancora Peric per il vantaggio napoletano prima dell'intervallo. Nel secondo tempo Cuzzolino sfiora il pari su tiro libero, Napoli centra due pali ma chiude la partita nel finale quando Patriarca va col portiere di movimento ma i gol li trova e per ben due volte l'estremo del Napoli e Spindola per il 5-2 definitivo, anche troppo largo per quanto visto. Nell'altra semifinale non c'è stata storia. L'acqua e Sapone ha fatto valere la sua netta supremazia e si è sbarazzata della squadra che ospitava la manifestazione, l'Ital Service Pesaro. Proprio il fattore ambientale poteva essere un ostacolo e invece la squadra di Perez ha messo in chiaro le cose con un avvio vehemente tradotto in un 1-2 nei primi sette minuti, prima De Oliveira e poi Calderolli. Pesaro però reagisce, spinta dal suo pubblico, ma deve fare i conti con la serata di grazia di Mammarella. Nel secondo tempo l'acqua e Sapone chiude i conti con Coco Wellington, la doppietta di Gabriel Lima e Boccao. Di Marse Ligno il gol della bandiera pesarese per l'1-6 finale che proietta la squadra del patrone Barbarossa alla semifinale di domani sera con Napoli, trasmessa in diretta dal canale Fox Sports. Nell'altra parte del tabellone semifinale tutta Veneta tra Camedosson e Luparense alle ore 18, domenica sempre alle 18, la finalissima.